Una città più sicura e vivibile era l'intento del sindaco di Rocca Piemonte, Carmine Pagano, ad inizio del suo mandato. Dopo un anno e mezzo di lavoro amministrativo, importanti interventi in materia di sicurezza e vivibilità sono stati effettuati. Altri saranno portati avanti grazie all'arrivo di alcuni finanziamenti e intercettando fondi europei del governo e regionali attraverso la presentazione di progetti. Proprio nei giorni scorsi è giunta dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno la notizia dell'aggiudicazione di un contributo straordinario di 70.000 euro assegnato per l'anno 2019 ai comuni fino a 10.000 abitanti e destinato alla realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. Un contributo economico per il quale il primo cittadino pagano, i consiglieri comunali Sabato Grimaldi e Luigi Lanzara, delegati alla manutenzione ordinaria e straordinaria, si sono attivati per impiegarli laddove le necessità sono più impellenti. Una cospicua fetta di questa somma sarà impiegata per lavori nelle scuole del territorio, ma anche per il rifacimento di alcune arterie stradali e per interventi di restyling degli edifici pubblici, compreso il Palazzo Comunale. L'azione dell'amministrazione dovrà essere rapida e concreta con i lavori che dovranno essere eseguiti entro il prossimo 15 maggio, appena la decadenza della disponibilità del finanziamento. Già nei mesi scorsi il Comune di Roccapemonte, attraverso fondi propri ed altri ottenuti dagli enti sovracomunali, aveva effettuato lavori presso le scuole della città e possono essere opere importanti per la sicurezza urbana, tra questi la riattivazione dei semafori in via della Libertà e la realizzazione dei dossi per evitare il transito ad alta velocità dei mezzi in via della Pace alla frazione Casali.